Ah, e finalmente ho finito di costruire la mia casetta, ci ho messo veramente tantissimo tempo, ma guardate quanto è carina, è veramente molto molto bella, c'è solo un problema, ma quanto sarebbe bello se anziché costruire la casetta blocco per blocco super noioso, potessimo semplicemente craftarla, proprio prendere la crafting table, mettere i blocchi e boom, casa pronta, la piazzi e si crea una casa eh, sarebbe veramente bellissimo, sarebbe un sogno, peccato che non si può fare, uffa, vabbè. Comunque, che, uh, che c'abbiamo qua? C'abbiamo dei materiali da costruzione e sono a forma di crafting, a cosa mi serviranno mai? Aspettate, aspettate, sono curioso, per quale motivo questi materiali hanno questa forma e sono stati messi così all'interno di questa cesta? Non li ho mica messi io, no, non li ho messi io, aspettate, fatemi dare un'occhiata, allora, cosa succede se provo a craftare questa costruzione? Ok, non succederà nulla, ovviamente, cosa volete che succeda, ragazzi? Non può succedere nulla. Cos'è questo? Instant wooden house block? Cosa? No! No! È un blocco per craftare una casa istantaneamente, non ci posso credere, non è vero, mi stai prendendo in giro, mi stai prendendo in giro. Allora, quindi, mi stai dicendo che se io piazzo questo blocco qua per terra, riesco a craftare un'intera casa? Boom! Ma no, me l'ho preso in giro, ma è finto. Devi avere l'instant wooden... Oh, ho capito, mi serve una bacchetta magica, aspettate, fatemela prendere dalla cesta, allora. Ciao a tutti, ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle mod più belle di Minecraft. Oggi vi faccio vedere come costruire tantissime cose che vi faciliteranno completamente la vostra esperienza di gioco su Minecraft, semplicemente utilizzando una bacchetta magica. Guardate, è molto piccola, è proprio piccola. Vedete quella casa che ho posizionato là davanti, che l'ho craftata poco fa? Mi basterà cliccare questo, boom! E si creerà una vera e propria casa. Guardate che bella. Beh, ovviamente ho utilizzato anche lo stesso metodo per fare quella là di prima, perché mi scocciava costruirne un'altra. Comunque, ragazzi, questa mod ha veramente tantissime cose bellissime che non vedo l'ora di farvi vedere. E ho iniziato ovviamente dalla casa, perché è la cosa più semplice da fare. Cioè, voglio dire, tutti quanti nella vita hanno sognato almeno una volta di poter craftare, anziché costruire la propria casa. E la cosa figa, ragazzi, la cosa bella è che basta rompere questo blocchetto qua davanti. Rompendola, ragazzi, la casa se ne va e diventa portatile. Io posso andare da un'altra parte, posso andare lontanissimo in un altro bioma, piazzarla e boom! Si ricrea di nuovo! Che figata! Quindi mi potrei letteralmente portare la casa a spasso. Quindi, come vi dicevo... Oh, sono caduto nell'acqua. Mannaggia, aspetta, come esco? No, aspettate. Oh, mio Dio, che mod, ok. Dicevo, come vi dicevo, ragazzi, questo della casa è soltanto una delle tante bellissime creazioni che possiamo utilizzare grazie a questa mod, che troverete qua sotto nella descrizione, se volete scaricarla. Abbiamo anche tante altre cose. Per esempio, vedete questo blocco gigante arcobaleno. Che cosa farà mai questo blocco arcobaleno? L'avete mai vista o una cosa del genere? Io non l'ho mai vista. Quindi, se per esempio io lo posizionassi per terra, proprio in questo modo, davanti a questa mucca, ecco, ciao mucca. D'ora in poi questa sarà la tua nuova casa, va bene? Piazziamo questo blocco qua. Uh, è bello, è veramente bello. E se dovessi provare a utilizzare, per esempio, la mia bacchetta magica, abracadabra, simsalamin, boom! E che cosa succede, ragazzi? Creo un coso gigante, oh mio Dio. Abbiamo creato una torre gigante tutta fatta da arcobaleno. Guardate quanto tempo ci vorrà per scendere giù. Ci metto una vita, è veramente assurda. È super grande e la nostra mucchetta è qua davanti. Ciao mucca, ti stai facendo il bagno. Mi basterà cliccare quel blocco, ovviamente, per poi uscire fuori dalla torre. Guardate quanto è grande e quanto è bella. Ma si è buggata? Credo si sia buggata, non dovrebbe essere bianca. Aspettate, fatemi vedere un attimino. Eh, sì, si era buggata perché dovrebbe essere tutta quanta arcobaleno. Vedete, questa è tutta arcobaleno. Quella invece è uscita fuori bianca per qualche strano motivo. Comunque, ragazzi, come vi dicevo, questi non sono gli unici blocchi che abbiamo. Ce ne sono veramente tantissimi. Una cosa che faciliterebbe completamente la nostra esperienza di gioco sarebbe poter togliere via tutti questi alberi in pochissimi secondi. Beh, si può fare. Vi basterà piazzare questa crafting table per terra, utilizzare la vostra accetta, fare harvest e boom! Come vedete, ragazzi, tutti gli alberi sono spariti in un raggio di 50 blocchi. Eh, oh mio Dio, ci abbiamo veramente tanta legna. Cosa ci faccio con tutta questa legna adesso, ragazzi? Eh, qualcuno vuole legna, eh, ragazzi, voi, tu là sotto, ragazzino, vuoi della legna per caso? E ovviamente possiamo disboscare completamente delle intere foreste piazzandone più di uno in questo modo e tutto quanto va via. Che spettacolo, meraviglioso! È veramente bellissimo, mamma mia! Poi, ragazzi, abbiamo anche qualcosa che ci aiuterà, ci faciliterà, ragazzi, a scavare le miniere. Quindi, per esempio, se io dovessi trovare una miniera... Oh, ecco, questa è una miniera, molto bene. Che cosa ci abbiamo? Oh, ma c'è il blocco... Ma no, ma ci sono i blocchi della torre! Per quale motivo? Comunque, mi basterà piazzarlo qua per terra, ragazzi, attivarlo e ci scaverà, in pratica, questa... Ci faciliterà, in pratica, la vita, perché ci possiamo buttare qua giù, al livello 0, dove c'è l'acqua, e iniziare a scavare tantissimo e per risalire sopra possiamo utilizzare le scalette. Ora, come vedete, ragazzi, questo è già un livello molto, molto basso. Mi trovo in una Y bassa. Altrimenti avrebbe scavato fino all'infinito, fino alla bedrock. Poi, ragazzi, ci abbiamo l'instant pool block. Che cosa potrebbe mai fare? L'instant piscina block. Non lo so, proviamo. Allora, lo mettiamo accanto a casa mia, per esempio qua, sperando che non distrugga tutto, e boom! Oh, mio Dio, guardate che piscina bellissima! Ma magari ce l'avessi avuto io, sta cosa, nella mia Candy Craft. E mi sarei risparmiato ore e ore di lavoro per fare la piscina a Billy. Questo è molto, molto più bello. Vedete che figata, ragazzi, posso costruire piscine su piscine, soltanto utilizzando il blocchetto. Vedete, devo semplicemente metterlo per terra e iniziare ad allargare il tutto. Ecco, magari cerchiamo di non esagerare, perché sennò si bugga tutto quanto vuoi. Abbiamo anche qualcosa per proteggerci dagli attacchi nemici aerei, ovvero una cupola gigante di vetro. Ovviamente dovremo piazzare il blocco per terra, utilizzare, come al solito, la nostra bacchetta magica. Amba, rapacci, cicco, co, tre civette. No, aspetta, questa è la magia sbagliata. Ok, vabbè, clicchiamolo! E come verrete, ragazzi, abbiamo creato una specie di cupola gigante. Ok, che non è proprio gigante, a dir la verità, me l'aspettavo un pochettino più grande. Che cavolo ci faccio qua dentro io? Vabbè, se proprio mi devo proteggere, che ne so, da un attacco nucleare. Io, a dir la verità, ragazzi, non l'avevo provata e mi aspettavo una cupola gigante verso tutto il mondo. Invece, beh, si è creato, diciamo, una mini torta. È una mini torta di vetro questa qua. Abbiamo anche il blocchetto per farmare. Piazziamo questo qua per terra e si crea una farm automatica. Che ovviamente potremmo, credo almeno, potremmo anche allargare. Sì, infatti, vedete, mi basterà rompere poi così qua e faremo una farm super super gigante, super duper epica. Quindi posso continuare, ne piazziamo per esempio, aspettate, allora, prendiamo, mettiamo questo qui così, poi mettiamo questo qua, boom, e continuiamo in questo modo. Wow, ragazzi, posso fare una farm veramente assurda. Se continuo in questo modo, ragazzi, è una farm infinita. E sto ovviamente distruggendo tutto quanto, come vedete. Sto distruggendo tutte le altre costruzioni, perché queste qua sono più forti e vanno a prevalere sopra le altre costruzioni. E guardate che farm gigante che abbiamo fatto. E io non è la mod più comoda del mondo. Certo che è la mod più comoda del mondo. Tutti quanti avete sicuramente visto la testa di Steve quando la prendevo dalla cesta. Ragazzi, siete curiosi di vedere che cosa succede se spawno la testa di Steve qua per terra? Oh mio Dio, ma sei bellissimo e sei gigante! Cosa succede se utilizzo la bacchetta magica, però? Scopriamolo! Anzi, prima lasciate un bel mi piace. Se avete lasciato già il mi piace, lo possiamo scoprire. Io aspetto, eh. Ok, l'avete lasciato? Avete lasciato tutto il mi piace? Ok, mettiamo, ragazzi, un nome per fare la statua. Ovviamente mettiamo il mio. Deve essere la statua del grandissimo imperatore. E dov'è? Ma si è buggato? E io non la vedo, la mia statua. No, mi sa che si è buggato. Ma no, aspetta. Allora, colui che osserva. Genera. Ma perché non funziona? Riproviamoci. Colui che osserva. No, non funziona. Ma perché? Ma io avrei voluto tantissimo vedere la mia statua gigante. Se sapete per quale motivo non sta funzionando, ragazzi, fatemelo sapere. Poi, ovviamente, ragazzi, ci abbiamo anche un'altra figata delle figate, ovvero il succhiatore di acqua e di lava. Mi basterà piazzarlo qua dentro, ragazzi, e toglierà completamente tutta l'acqua all'interno di quel laghetto. Ora sono curioso di trovare un bell'oceano, però. Proprio per togliere tutta l'acqua dell'oceano. Anche questo laghetto è molto grande, quindi potrebbe essere interessante. Piazziamolo qua per terra e purtroppo può soltanto succhiare via mille unità di acqua e mille di lava, quindi non può togliere via tutto un mare, per esempio. Però guardate che figata! È lo stesso bellissimo! E si crea questo mini blocco d'acqua, ragazzi, che ovviamente funziona proprio come l'acqua. E lo possiamo togliere, lo possiamo rompere in questo modo. E abbiamo completamente tolto un lago. Ora, se per esempio io volessi fare così, tipo chiudere questo lago così e mettere questo qua dentro, funziona? Sì, funziona! Mi basterà chiuderlo in sezioni e purtroppo, ragazzi, non possiamo succhiare l'acqua di tutto il mare, perché se no sarebbe troppo troppo bello. Ma credo che, sì, infatti è proprio impossibile. Oh mio Dio, infatti ha pure laggato. È proprio impossibile perché può soltanto togliere mille blocchi di lava oppure mille blocchi d'acqua. E adesso, ultimo, ma non per importanza, l'albero gigante, il sapling gigante. Mi basterà piazzarlo qua per terra. Uh, guardate che bellino! C'ha la freccetta che indica sopra. Mi basterà cliccare la mia banchetta magica e sbala... Uh, ok, aspettate, posso scegliere prima che tipo di albero posso prendere. Vediamo, un albero della giungla, ecco. Oh, oh, oh mio Dio, ma che è? Ma è enorme! Ma è gigante! Immaginate se ne piazzassi più di uno. Potrei fare una foresta, ragazzi, con questi alberi. Allora, lo piazziamo. Scegliamo, per esempio, albero di spruce. Uh, wow! Uh, oh mio Dio, ragazzi. Mettiamo alberi... Aia, no, aia, aspettate, sono dentro l'albero. Aiuto, aiuto! Ok, siamo usciti. Guardate, ragazzi, che alberi giganti! Comunque, la figata delle figate, più figata di tutte quante, ragazzi, resta comunque la casetta portatile craftabile. Perché non si può battere. Come fai a battere una casetta che puoi craftare e te la puoi portare anche a spasso? È troppo, troppo epica. Questa mod è veramente super bella, quindi scaricatela se volete. Il link lo troverete qua sotto nella descrizione. Dal vostro imperatore Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!